Ci presenti la sua attività. Lo studio si occupa di diritto commerciale e in particolare di diritto del franchising. È uno studio a Roma e siamo partner della Federazione Italiana del Franchising da circa 8 anni e ci occupiamo di assistenza, consulenza, tanto per le reti in franchising quanto per i franchisee.